Ero in uno stato di agitazione, chiedo scusa per le offese verbali che ho rivolto ai sanitari, nei confronti dei quali non ho alzato un dito, come dimostrano i video che ho girato, ma non è bello sentirsi dire il giorno prima che mio nonno stava per essere dimesso e poi il giorno dopo è deceduto. È pentito Giuseppe Mauro, il giovane, che lo scorso 19 marzo, insieme ad alcuni parenti, danneggiò l'ospedale del mare di Napoli. Un raid ripreso con il cellulare e poi postato su Facebook. Io non ho aggredito nessuno e sono pronto a qualsiasi prova, a qualsiasi cosa, perché io non ho alzato un dito. Io ero solo disperato perché non è possibile che un giorno prima ci chiamano dall'ospedale che mio nonno è in uscita, fuori pericolo, doveva ritornare a casa e il giorno dopo ci chiamano che è deceduto. Mi è crollato un mondo addosso, ma non è stata una cosa violenta, non è stato un gesto come hanno definito, è stato solo un gesto di puro dolore, che mi ha portato a sbagliare verbalmente con il personale medico. Intanto il legale del giovane fa sapere di aver presentato una denuncia alla procura di Napoli per chiedere ai magistrati di far luce sulle cause del decesso del nonno di Giuseppe. L'autopsia chiarirà le cause del decesso e non possiamo che rivolgerci alla magistratura per accertare eventuali colpe mediche. Una violenza verbale che seppur dovuta alla rabbia va stigmatizzata e oggi qui chiede scusa a tutte le persone coinvolte.